pensierino raccontate che cosa avete fatto oggi svolgimento oggi a scuola il duce ha parlato ci ha detto di fare la ginnastica per diventare forti educati e pronti a una sua chiamata per difendere la nostra grande italia perché c'è la guerra il generale tedesco entrò e lo zio li fece senno di sedersi si misero uno di fronte all'altro in silenzio muovendo lentamente le pedine baby stava sotto il grande albero mi misi a correre baby baby dietro la villa c'è un bosco di olivi noi stiamo il più del tempo lì sui rami papà non c'è più la mamma neppure sono in cielo da lassù guardano giù per vedere se io e baby siamo buone ora che siamo con i nostri zii nostro zio è l'ebreo più buono del mondo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.